! puoi girare? puoi chiedere il cellulare? Quedate mirando le casas Sabes che sarebbe bello avere bicicletta? Non ti piace? Claro E' in questa casa chiquita che sta qui Ora quando termines di gravare Me explica Me può muovere? Si muovete hacia mi Viene il perro a atacarti Sai cosi? Il perro viene a atacarti E lui sta corriendo duro Non lo vengono Perché non enfocas il perrito